Ciao a tutti gli amici di XtremeHardora.com e ben ritratto ad un nuovo video d'unboxing Questa oggi abbiamo uscito in redazione le Siberia 840, evoluzione del precedente modello Siberia 800 Il modello in questione è un modello polivalente, compatibile come possiamo notare con Windows e Mac con PlayStation, Xbox, Media Center, Home Theater, con dispositivi mobile Questo grazie al modulo Bluetooth integrato come possiamo vedere qui in basso a sinistra dal sistema Dolby Digital e Dolby ProLogic 2X che ci assicurerà anche un suono surround 7.1 Insomma un headset davvero di alto livello da parte del produttore danese Confezione classica con il classico design Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa con anche il controller incluso nel bundle che ci permetterà di gestire direttamente le cuffie da questo controller Ricordiamo che le Siberia 840 sono anche un headset wireless quindi non avremo nessun cavo di impiccio e nient'altro, qui troviamo tutte le specifiche un po' la descrizione dei cavi che troveremo all'interno del bundle e nient'altro Quindi procedendo all'unboxing troveremo all'interno una classica manuale di istruzioni e un cofanetto contenente un vasto assortimento di accessori come possiamo vedere troviamo le prese per le varie nazioni l'adattatore principale USB alla presa che andrà a muro quindi alla corrente Giusto per farvi un esempio troviamo un cavo ottico ancora troviamo un cavo per la chat da utilizzare con l'Xbox One o la Playstation 4 un cavo per il collegamento analogico ancora un cavo per collegare le cuffie agli smartphone sempre con connettori jack 3,5 mm ancora un connettore USB a mini USB per la Playstation 4 e per il PC ovviamente questo ci servirà per collegare il controller al computer o alla Playstation ancora un ulteriore cavetto con un jack da 3,5 mm per la Xbox 360 il cavo USB al connettore di alimentazione per giustamente alimentare il controller i vari ovviamente le altre prese un'ulteriore batteria di ricambio in modo che nel caso si dovesse scaricare quella già presente all'interno del padiglione come vedremo a breve potremmo utilizzare quella già carica e quindi continuare le nostre sessioni di gioco proseguiamo e troviamo inoltre come abbiamo detto il controller un controller con display OLED ovviamente dovranno essere collegati i cavi di alimentazione per accendere e per visualizzare qui su display varie funzioni e vari menu abbiamo uno scroll di tipo cliccabile che ci permetterà di selezionare le voci di nostro interesse e confermare pigiandolo il logo della SteelSeries in bella mostra nella parte superiore ovviamente è uno chassis in plastica la finitura mentre è laterale il perimetro è completamente lucido quindi già abbiamo acchiappato un po' di polvere troviamo nel lato di destra il vano per inserire per alloggiare la seconda batteria e quindi iniziare la carica mentre nella parte posteriore troviamo l'ingresso analogico la chat out quindi per collegare eventualmente il controller alle console l'ingresso per l'alimentazione l'USB per il collegamento al computer e due ingressi optici in e out nella parte inferiore troviamo un adesivo una basetta di gomma per stabilizzare il controller sul piano e un adesivo con vari riferimenti tra cui anche sempre la compatibilità al Dolby Digital Dolby Pro Logic 2X e così via infine troviamo le cuffie le Siberia 840 come notiamo il design è rimasto invariato dal precedente modello Siberia 800 sono delle cuffie come notiamo wireless quindi non sono richiesti i cavi ad eccezione di quelli che ci serviranno per la chat e comunicazione con le console come abbiamo già detto sono delle cuffie molto eleganti grazie alla colorazione prettamente di colore nera partendo dalla parte superiore troviamo una headband un archetto in plastica con una finitura superiore in gomma con riportato il logo della SilSeries come possiamo vedere mentre nella parte interna troviamo sempre un set di imbottiture in gomma con un rivestimento in similpelle che quindi ci permetteranno di indossare le cuffie con il massimo comfort abbiamo sempre la possibilità di regolare l'ampiezza delle cuffie in modo da calzarle meglio sulla testa troviamo altri riferimenti con il logo della SilSeries e nient'altro passando ai padiglioni possiamo vedere come le Siberia 840 ci permettono di ruotare di 90 gradi i padiglioni non solo abbiamo anche la possibilità di tiltarli quindi di avere un piccolo gioco laterale per calzarle sempre meglio la parte esterna è dotata di plate in plastica con il logo della SilSeries riportati in ambi in ambos scusate i padiglioni nel padiglione di destra potremo anche tramite un movimento circolare anti-orario svitare rimuovere la placchetta ed accedere al vano della batteria in questo caso già integrata la batteria rimettiamo a posto il padiglione troviamo il microfono come sempre classico della serie Siberia quindi completamente snodabile flessibile quindi ci permetterà di utilizzarlo di non utilizzarlo quando non utilizzeremo la chat vocale in gioco e quindi ascoltare magari soltanto la musica passando al padiglione di sinistra e poi in realtà è quello di destra noi abbiamo un momento girato le cuffie troviamo nella parte superiore una rotellina per aumentare e diminuire il volume ma anche per accedere alle varie funzionalità sul display del controller direttamente dal padiglione per confermare ci basterà soltanto cliccare verso il basso e quindi è un po' come al controller e diventa un'operazione davvero semplice nella parte inferiore troviamo il tasto per accendere le cuffie il tasto per il pairing del bluetooth in quanto abbiamo detto che le Siberia 840 sono state aggiunte del modulo bluetooth e quindi rendono queste cuffie davvero polivalenti e multifunzionale e a seguire troviamo i jack le entrate per i cavi che abbiamo visto e che ci permetteranno quindi di sfruttare sia il collegamento a eventuali smartphone o tablet per ascoltare la musica o eventualmente per essere collegate ai controller delle console di nostro interesse Xbox One PlayStation 4 e così via nella parte interna giriamo nuovamente le cuffie troviamo dei patiglioni davvero morbidi imbottiti in gomma internamente e esternamente da un rivestimento insieme al pelle con una coruscitura in bella vista colorazione sempre nera e arancione per il tessuto interno a differenza dei modelli precedentemente recensiti le Siberia 840 adottano dei driver da 40 mm rispetto ai 50 mm classici che stiamo ovviamente trovando negli headset da gaming però sicuramente ci daranno un ottimo bilanciamento del suono e ovviamente e questo lo vedremo meglio nei test che andremo ad eseguire e ancora nuovamente dobbiamo dire che l'headset è davvero molto elegante e davvero interessante con questo è tutto vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.ximardure.com dove troverete ulteriori immagini come sempre i nostri approfondimenti i test e tutta la recensione con questo è davvero tutto un saluto a tutto lo staff grazie a tutti